Ma la politica, la politica si divide in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull'Itali. Come domani ci sarà l'udienza dei supremi giudici sulla legge elettorale. Paola Cervelli. Vigilia di attesa e tattica. Sotto la lente della consulta ci saranno il ballottaggio, il premio di maggioranza, i capilista bloccati e le candidature in più collegi. Una sentenza che potrebbe rimandare al Parlamento per aggiustamenti oppure essere autoapplicativa, con conseguenze anche sui tempi del voto. Io spero soltanto che domani la consulta ci fornisca una legge per andare a votare, che ci metta in condizioni di andare a votare il prima possibile, perché se questo Parlamento si mette di nuovo a lavorare sulla legge elettorale, finiamo nel 2019, non nel 2018.